L'Italia sta uscendo dalla pandemia, ma per uscire definitivamente accanto alle misure sanitarie e mediche servono ora dei provvedimenti perché l'autunno non sia un autunno terribile dal punto di vista sociale ed economico. La proposta che con Franco Cardini abbiamo scritto è quella di uno Stato umanizzato, un nuovo patto sociale, un nuovo welfare che sostenga soprattutto le classi più deboli, che sono quelle che ci hanno rimesso di più e hanno pagato di più i costi del coronavirus.